o la luce d'ores e bizzarri blastatori di blatte in blister ben ritrovati dal vostro silver dal nostro silverius e dal nicolas ok ho capito allora io adesso mi attrezzo col pistolino il double coon ok stiamo al gioco bene ok sono molto felice di aver appena preso la double con in mano vediamo un po la pistola il revolver del west sti gran cacchia spifferi ci piace ci piace ci piace allora le regole quali sono che ti posso sparare nelle chiappette dove mi devo mettere va bene ma dovevo evitare di sparargli wow abbiamo con noi la pistola più veloce del world dipende sempre come interpreti la cosa allora io devo andare anche nel saloon farmi dare la ricompensa anche dall'altro cotrione finico qua robotico ciao ciccio si 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 mistrixi guarda una gnoccolona un po freddina eh magari a tratti però diciamo cioè praticamente noi è come se fossimo infilati nel sifone di un lavandino no grazie posso lasciarti perché trasporto ehi nicolas si capo si si capo un'ostrica la roba preziosa te la porto più che volentieri eh guarda lo sospettavo vagamente ma molto vagamente attenzione siamo lieti di annunciare che le montagne russe della miniera di Mad Mulligan sono state riaperte con sistemi di sicurezza più affidabili dopo la tragedia dell'anno scorso ok ecco quello che odio dell'armatura atomica che non puoi praticamente trasportare un ciuccio capifero praticamente che vai subito in sbatti allora vediamo un pochino se ho qualcosa che ti posso guarda ti regalo questo un idro fulminatore ti posso dare questa questo no questo serve praticamente a me ti do questo durante la visita alla casa dei gorilla vi preghiamo di non compiere gesti improvvisi verso i nostri esemplari di primati va bene va bene eh guarda poi io ho proprio a che fare col guinness dei primati no cioè quello che ciuccia la birra dei primati e non ho le bottiglie vuote ma non ce n'è in giro una perché volevo provare volevo provare a fare una miscelanza una miscelanza miscellanea non c'è una cacchio di bottiglia vuota si si ma una cacchio di bottiglia vuota in un cacchio di posto dove dove tutto è un cacchio di di cacchio cosi di cacchio gente con cacchio cose che bevono alla cacchio niente ceccia e puccia più 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 ceccia che puccia se devo essere sincero mi dispiace un fischiobotto attenzione in caso di emergenza mantenete la calma e seguite le istruzioni di sicurezza ok va bene grazie eh sì esatto così tanti idioti così poche idiozie da fare praticamente non ho niente per te eh un momento fa ci stavamo simpatici non so perché ma come la vaga impressione che ci torna la buona nuca wild quindi scommetto che potremmo creare pozioni veramente intriganti e interessevoli a tratti non tutte ma alcune si c'era anche la vedova del cistermaio la ma non mi ricordo dove stava non posso ciucciarti la bottiglia va bene va bene si ok io do ancora una perlustrata perché manca appunto questo lato della della zona western e si trovano anche cose molto interessanti gente magari morta ma comunque prodiga di roba golosa molto golosa e più mini per la polvere molta polvere vabbè avevamo anche promesso che avremmo ripulito le montagne russe quindi faremo anche quello eh non ci possiamo perdere le montagne russe di mad maligan per nulla al mondo mannaggia il cetoriolo ok 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 tutte ste robe tornano stra buone si c'è proprio della no e vabbè ma ce ne faremo una ragione dai vai vai così che è una figata hai perfettamente ragione quando dici che il capo sono io quindi tra l'altro tra poco ti rifilerò altra roba eh vai tranquillo qui c'è cose ieri quello nuovo ha dato via un peluche cappy cowboy e così andrea l'ha licenziato adesso vuole che io renda il gioco più difficile ti ho detto che prima o poi la gente se ne accorgerà ma ovviamente non gliene frega un cazzo ovvio almeno non era quello dello sceriffo nuca quel affare grosso quanto me è così pieno di polvere da soffocare una comitiva forse haidi può mettere me al duello di estrazione rapida di haica occhio solo certo non sarebbe una brutta idea vero eh ti piacerebbe lazzarona lì frocona eh avete notato che adesso abbiamo la bottiglia di nuca nuca cola wild quindi troveremo nelle varie zone anche delle nuca cola diverse cioè le abbiamo già trovate più o meno tutte credo no? beh ovvio me le cerco lo so lo so eh avete ragione ma anche perché prima di entrare nelle montagne russe farò un tagliacucci dove vado a svuotarmi un secondo saccocino eh non temi non temiate però ho preso ecco tipo questo non serve una mazza ecco basta infatti volevo rifilarlo a a nicolas il nostro nicolas cage ma qua ci sono dei bulbi dei famosissimi bulbi di scrotolo famosissimo e fantasticissimo scrotolo ok vai vai che è il tuo momento dai ti stufolano vai ah quanta goloseria anche perché lo stingwing è già fastidioso di suo elettrificato leggendario ti lascio immaginare che gran gioia per le gonadi e le terga va bene appena posso faccio eh certo fucile d'assalto sterminatore più quanto vale sto fucile tanto vale tanto certo che lo prendo nicolas ho qualcos'altro per te eh hai bisogno si si fanno buon uso eh non ti darò i proiettili quindi eh ok questo si si decisamente eh in realtà mi trovo talmente male che col fucile gauss che forse era meglio quello per la quantità di proiettili che abbiamo ma ci ragionerò su a suo tempo sempre bisogno di te sei una grande spalla e hai anche dei gomiti e anche i gormiti mi hanno detto Nuka World è orgogliosa di essere l'unico luogo della East Coast che serve Nuka Cola Quartz ok ah non è che non abbiamo le bottiglie non abbiamo le nuca che stanno bene insieme e ci voleva tanto dircelo porca di quella galera 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 quindi qua abbiamo perlustrato tutto lì non c'è niente nient'altro stiamo sicuri non me la contate giusta eh cioè io devo arrivare di qui copar su tutti sti cosi per non trovare una cembola di niente neanche un cacciavite o delle olive nascoste qui la cosa mi puzzava ma è purtroppo così eh sì purtroppo è proprio così oh sugar top bene la vecchia cima di zucchero ah qua non l'abbiamo già chiappato l'illuminazione ci fregava non mi sembra di aver dimenticato di perlustrare nulla sì vabbè speravo di farcela trasportarlo e invece no sono un idiota va bene facciamo il famoso tagliacuccia ci rivediamo qua dai ok non ci crederete mai ma ho lasciato l'armatura atomica in tintoria a sanctuary a sistemare e niente l'ho riparata l'ho potenziata mi sono dimenticato di rimetterla me ne sono a quarta ora e non avevo voglia di tornare indietro e via dicendo ho sistemato anche il buon gauge gli ho messo la parrucca pompadur perché comunque il cristino lì non ci potete vedere ha apprezzato molto si è confidato con me intanto che sistemavo e vendevo gli oggetti che ho recuperato e potenziato e praticamente niente ci fido di me contento di girare assieme praticamente sapete che quando un personaggio ci accompagna a lungo andare in base alle nostre azioni parte la romance e quindi sto facendo la stessa cosa benissimo abbiamo raccattato le password i tre pezzi di password possiamo andare a recuperare dalla cascia forte la chiave per andare nella miniera eh questi braccia strappati dall'agricoltura eh allora vai così quella non vi nascondo che confidavo ci fosse altra roba dentro e beh allora mi prendo la sveglia ciao siiii mi piace antiquariade molte belle vabbè ok scusi non volevo divagare troppo sul tema e adesso torniamo in quel ah ecco ho anche forgiato delle nuca cole di fattezze strane e ne ho fatto un espositore intero nella nostra casa sanctuary ragazzi è una figata eh ma proprio vo dico come se che hai di la la miniera ve lo dico come se non lo stessi dicendo è una confidenza che resti fra noi e altre cose simili che vabbè niente ci siamo si entra da qui non non è l'ingresso che ti aspetteresti in un parco per l'attrazione principale di quella zona oddio un pochino ci sta eh un pochino questo gli ho visto muovere la gambetta eh attenzione tutti i partecipanti alla gara di bevute di luca cola devono firmare la liberatoria per partecipare all'evento ma c'è anche la gara di ruti? perché 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 se c'è la gara di ruti potrei anche farci un pensierino allora bisogna eliminare le sanguisughe quindi io vado di coltellino eh sì ok sbarrata dall'altro lato perfetto vuoi che se c'è una porta all'inizio sia apribile? no non esiste allora nuca cola wild intanto sembra esserci solo di quello allora sarebbe fighissimo potersi fare un giro sulle montagne russe davvero in stile creatori di parco ecco se ero parco nel creare parchi ok prendo guarda prendo due lattine giusto perché ho sviluppato il saccoccino allora chiave del dipendente di Mad Mulligan messaggio di Terry Terry Tanaka quindi ha lasciato un messaggio ed è morto benissimo zappo cartucce fucile revolver del west più borsa per le munizioni militare ok ma quello lo prendo perché è fico le metto al calciatore no messaggio di Terry allora mi ero fermato proprio sul punto di giustezza proprio piazzato lì come un pupazzo non lasceremo che quei dannanti mi perdoni i conquisti nel parco Ray Rock Glaciers sempre avuto le posizioni di pensione migliori affronteremo da lì adesso immagino immagino su proprio bei momenti li vedo proprio li vedo proprio convinti ehm ok ok non mi sembra di sentire strani rumori però si può scendere di qua si ok vediamo un po' ha ha beh speravi di farmela eh no in realtà non sperava di farmela ero io che stavo facendo un po' il mellifluo scassina tutto spacca sbraga su come se non fosse la tua serratura preferita ehm se no se mh se anche perchè l'antisettico mi serve per creare gli steampack e non c'avevo mai riflettuto più di tanto e voi direte silver ma con tutti gli steampack che c'hai ma ma si ma perché ma why not ma io la prendo poi vedremo il da farsi lancia missili 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 steampack steampack ok visto che mi dai il lancia missili io non ti nascondo che confido di usarlo quindi se trovo le sanguisucchi alla distanza so come rimettere diciamo un po' d'ordine nel minestrone allora qua c'è la gente che dormiva accampato in accampamento sento rumore ahhh funzionano così quindi io non avrei mai visto il pupazzetto con l'h ok figanzo e figufo allora allora facciamo una cosa interessante bah schifo vabbè vabbè che schifo porco schifo mamma mia va bene abbiamo capito più o meno quello che ci attenderà in questo luogo di perdizione e mistizia ma mistizia del bulbo pilifero praticamente e niente stavo dicendo i acchiappe i capi e che fossino e che venissero scusi eh stavo dicendo giusto per allora posso fare una cosa molto gioiosa e le giuadra se io faccio una roba ahhh non so se mi li segna però se non se me li segna tanto di guadagnato allora giusto per evitare un po' di sbattimento perché sennò avrei rischiato di ignorarlo ce n'è morta di gente dentro qua eh bobbabia bobbababia volevo tanto funzionasse era diversa da altre sanguisciucche o sbaglio? regina delle sanguisciucchie esatto regina delle sanguisciucchie ma è sempre lei salve mi dica che mi sbuca fuori anche dal legname ok perfetto era quello che volevo ottenere e con tutta la mestizia di cui sono capace e con tanta tristezza dove ho il filo super lecchiappone brutta laida di una regina delle sanguisciucchie eccetera eccetera a a a a a poi non riesco a capire perché assumono quel colore rosso luminescente boh vabbè mi fido di loro lascio fare lascio fare beh allora visto che c'è la cucina a campo qua me le acchiappo e me le schiappo me le acchiappo me le schiappo e le cucino subito ma non tanto perché mi interessino di per sé quello che possono farmi le carni di sanguisciuga e via dicendo perché non è che ci trovo questo gran interesse ma per il semplice fatto che sono comunque punti si giusto che sono comunque punti esperienza easy e facili no? lì si poi ne troveremo altre ma vediamo se ne vale la pena se no non sto neanche a tornare indietro no con la carne di sanguisciuga non ci posso creare un succhiaceppo quindi va bene così va bene così dai eee brave bravissime oh come siete belline carrucette si si siete veramente delle bellissime sanguisciughe da compagnia ah va bene ah questa chiave aveva poteri sovrannaturali praticamente poteva aprire cose infilarle in posti come sempre allora sam teller messaggi sempre hanno lasciato tutti i messaggi come vedete però stiamo trovando tappi in quantità interessanti adesso eeeh ok mmm boh fucile mmm mmm vabbè non avendo l'armatura me lo posso momentaneamente permettere ottimo mmm ok ma allora sam può stare anche per samanta eh per quello che avete visto un nome maschile che si fa o sei quello che impugna giusto esatto eh mi sembra che tu sia nell'atto giusto allora messaggio di sam perfetto sanguisughe dove immaginarlo che qui sotto c'erano le loro tane ci hanno salito scavando nel terreno ormai è solo questione di tempo non lascerò che mi prendano nei vermi nei predoni deciderò io come morire mio nome era sam teller gestivo le carovane me la cavavo bene stipulando affari onesti con nuca world per anni ho combattuto i predoni quando sono arrivati ho guidato la resistenza era una madre una moglie una sorella e una figlia e fottetemi per avermi strappato tutto questo ti rende onore sorella ti rende onore te lo meritavi hai avuto le palle quadrate allora scusiamo ecco questo è uno di quelle cose fantasticamente inutili nel senso che ah no però potevi entrare da entrambi i lati e e vai tranquillo sono sanguisucchie eh carne di sanguisucchia ah e tre tappi e c'è anche roba la sotto guarda io mi sto divertendo tantissimo l'ho anche surgelata allora io quindi devo comunque per lustrare tutta la miniera non tanto perché mi diverta guarda come ci prende gusto anche lui eh ragazzino ma sbaglio allora ho le sanguisucche sono rosse perché prendono fuoco per via del nostro perk o se no non ho capito gran tanto eh perché noi possiamo sia dal fuoco che dal ghiaccio abbiamo entrambi i superpoteri quanto siamo siamo il dinamico duo allora questo è il classico shop dell'uscita perfetto i medaglioni ok ok quindi qui ce l'abbiamo fatta l'unica cosa che non so se abbiamo già chiappato tutti i capi che potremmo che potremmo chiappare in queste lande desolate di tristezza e di mestizia fra l'altro giusto perché la mestizia non deve mai mancare a far compagnia alla tristezza ah un bicchiere una tazza un ginepro un decanter terminale del negozio souvenir impiegati e basta vabbè dei bigliettini così a cacchio spifero il famosissimo cacchio spifero ah allora eh questa è chiusa con con gioia mi hanno chiuso la saccocina con gioia la bene grazie mi è costata una forcina ma ne è valsa la pena ok una lampadina ma anche no ah ecco aspetta eh talibum beh perfetto temevo sarebbe successo ben di peggio aprendo una porta che avrei trovato sorprese da da film horror però una zona horror spero che ci sia eh allora qui abbiamo capito che è l'uscita quindi ho altre cose da vedere un attimino che vorrei perlustrare con perlustranza ecco vedi c'era il messaggio questi devono essere quindi i dipendenti no non possono essere così ben conservati i dipendenti questi sono i carovanai fucile a doppia canna cioè io sti completi ragazzi li voglio rifilare tutti ai ai miei dipendenti aspetta un po' Rikki messaggio di Rikki siamo stati respetti fino alla miniera non so per quanto potremmo resistere continuo a sentire rumori tremore e qualcosa del genere non siamo solo lì qui temo che dio ci aiuti benissimo diciamo che il dio delle sanguisughe ha vinto allora qua è chiusa la miniera perfetto vediamo se possiamo trovare qualcos'altro se no torneremo gioiosamente indietro a raccontarlo a nipoti e pronipoti anche qui c'è tutto chiuso peccato eh ne avrei perlustrato veramente con piacere le gallerie bene ecco vedete quella lì è diventata rossa perché adesso non è più rossa e e guardate come si è già consumata l'energia quindi si può darsi che il comparir gli faccia gola ah quanto quanto sia divertente si sono solo punti facili ragazzi eh né più né meno vabbè tantissimo sincero dalla zona trazioni mi aspettavo di meglio molto di meglio vabbè allora interessante non interessante non interessante allora qua non c'è nient'altro quindi si può tornare su possiamo uscire giù ordunque mi aspettavo veramente ecco qualcosa di più di più complicato va bene va bene dai allora contento di affrontarli a coltello ah no mi era sembrato di vedere qualcosa di interessante sbucare dei buca cao è un po' come sbucare dei buca neve via dicendo eccetera eccetera va bene allora parte 1 data ah non posso schiappare altre medaglie no se lo sbloccato va bene fa niente fa niente andiamo andiamo alla conquista del mondo là fuori si si però aspetta aspetta ok ma il discorso mio è un altro la bandiera dove cavolo la dovevo piantare per poi decidere a chi spetta il luogo boh parleremo col salumiere qua si si eh quella miniera era la tana di una regina delle san visute però che è morta l'area dovrebbe essere più sicura non capisco una parola di quello che dici ma sei il miglior vice sceriffo questo è scemo con pupazzi di beh il reparto di pulizie tu e i tuoi amici sarete sempre benvenuti a dry rock dulce ok e come l'assegno la banda? ma guarda il mio sceriffo preferito ok giorgio occhi aperti di cosa hai bisogno? vorrei capire sembri in forma Gage che c'è capo? niente volevo capire come assegnare aspetta ok si ok quindi quindi ce n'è un altro di capi nascosto? non ho capito ho troppe robe attivate insieme aspetta un momento aspetta un momento allora vediamo un secondo eh andiamo con ordine andiamo con ordine che c'entra questo? ho altre cose attivate ma parca miseria bene allora siamo siamo a posto così per ora bene eh ma come l'assegno la banda? da dove vado? non mi è chiaro però aspetta eh mi da una distanza vediamo un attimino eh ma avevo messo un segnalino io lì la settimana prossima inizierà l'evento mannaggia per notare i biglietti per questa incredibile serata la biglietteria principale che possino ok perfetto quindi devo andare in un posto specifico ancora e ora basta non ho capito niente ma non butti giù nessuno dove cacchio c'è ma dove si assegna la banda? e poi cosa sono ancora tutte queste conquisughe qui del conquivus del sanguisugo del pistuffolo e del ginepro ah buono ok grazie no no figurati allora ok forse la bandiera me la fa piantare qui sull'asta ok 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 perfetto allora oh oh allora il branco no erano gli operatori o i discepoli? i discepoli del sangue gli operatori l'ho azzeccata? l'ho azzeccata? l'ho azzeccata? sì era quello che volevo perfetto perfetto bene io non so se ci sia una sua logica ma andiamo proseguiamo con questa bizzarra avventura che ci porterà a conquistare un altro settore adesso allora poi sarò pian piano più lucido allora kit di kingdom ok questa la lasciamo attivata questa la lasciamo attivata e ok ce n'è una per no qua addirittura ce ne sono due due cappi un cappi lì uno qui due qui e zero addirittura qua stramboide andremo subito alla galactic zone allora andiamo alla galactic zone e quindi facciamo che mostriamo sulla mappa questo e andiamo alla galactic zone che è dritto davanti a noi quindi è fondamentalmente la più semplice prima da raggiungere logicamente non ci faremo mancare quello di dare un attimino una veloce o perlustrata poi sarebbe bello anche andare a dare un'occhiata ai limiti del mondo dal lato di là che è c'è stata una folata di vinto particolarmente rigoglioso ah quelle ah sono vabbè sono soci grande bene non ho ancora capito si era bloccato tutto per un attimo si è frizzato non ho goduto eh lo ammetto non ho capito ancora cosa serve a questa cacchio di gemme inebriante intanto l'ho depositata in quel di sanctuary contro cosa stanno combattendo operatore venerato ok ok va bene perfetto facciamoci vedere a dare una mano potrebbero gradire non capisco dove siano i buoni dove siano i cattivi ok questo è un operatore un veterano del branco stanno collaborando diciamo che so come rendermi assolutamente inutile eh devi fare di meglio ok ok benissimo 5 forci tappo munizioni vabbè ok chi qua siamo alle solite niente di troppo interessante ok sì questi vanno d'accordo fra di loro come veramente dei triangoli i famosissimi triangoli in pestangoli per quello che il triangolo no non l'avevi considerato eh bravo bravo allora una cassaforte di media fattura che scassineremo sbudellandola dall'interno boh che bei momenti fantastico uh eh ciao allora nuca bottiglie te le lascio questo ce lo chiappiamo questi questi me li prendo come sempre perché poi se devo rifocillare le scorte fisiche di qualcunquando ce le piazziamo oh bello 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 l'ho già detto oh bello bello non so se l'ho già detto ma sappiate che è molto bello bello vabbè comunque sappiamo quindi che anche tipo i gunner e robe simili possono venire possono venire a scucchiaiare le cerbotane da queste parti quindi meh allora no no nì no no vabbè dai come sei volubile silvere detto di no fatti sotto e lo capiamo subito mi avvicinerai a te solo per staccheggiare il tuo cadavro l'importante è volersi bene eh l'importante è volersi bene uuuuuh da ste parti non c'è una radio funzionante va bene amo capito la solfa bene no il cocomero l'avrei lasciato volentieri ci sono andato distinto no un po' come quando rubai il fornelletto e successe un putiferio del putifondaio allora ehm no 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 non vedo articoli di mio interesse no baule degli attrezzi non avevo colto la gradazione del color si vabbè vada lì vada lì come te c'è bel là bene se se facciamo finta che ne sia valsa la pena mi raccomando intanto stiamo per completare il nostro bel livellino siamo quasi a soglia 60 non mi parebbe vero eh bene se va bene abbiamo capito che c'hai tre tre linee di dialogo l'abbiamo capito basta adesso non vantartene ok mi sa che quindi vedete che io meglio che per lustro due volte tutto ho visto una cosa sbrillucicosa sbrillucicosissima quanto mi piacciono le bibite luminescenti ricordate che in passato vi ho spiegato come fare le bibite luminescenti fatte in casa perché è una cosa più normale di quello che possa sembrare perché l'acqua tonica è luminescente di suo basta usare una lampadizia luna nera e chi luna nera luce nera e il chinino nell'acqua tonica farà sì che si illumini d'immenso con grande gioia vabbè dai tentano gli accoppiamenti fra le razze bravi bravi va bene così andate moltiplicatevi io non mi offendo mica sono di mentalità aperta è molto importante che non vi accoppiate con me perché ho già i miei problemi ho già tipo 18 relazioni in corsa era un po' che non trovavamo un orsacchiotto soprattutto una scimmia lunare e un orsacchiotto souvenir ci abbiamo veramente c'erano gli orsacchiotti autisti qua la aspetta eh lo so non dovrei ma lo faccio lo stesso perché comunque sia già che siamo da queste parti poi adesso andiamo lì al al bar la fuse del anche perché non so se c'è un ingresso che sia meglio di un altro tra poco ci siamo entriamo però visto che ci sono cose luminose che al buio si notano cosa sei? un deathclaw? eh perché trema tutto perché trema tutto vedo che mi divertirà ah deathclaw camaleonte? eh perché? credo che non mi piaccia la cosa se 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 è un messaggio forte che è chiaro ciao ho fatto ho fatto la fine del pistola ma pistolauro facevo tanto lo sborone poi è arrivato che che bei momenti quindi essendo morti stramorti come di giulio di giamburrasca eh mi sa che abbiamo fatto la figura barbina non abbiamo necessità di rifarci tutta la roba di andare a curiosare se anche vedremo ricomparire i simpaticoidi li lasceremo un po' nel loro brodo allora io adesso ho selezionato ho selezionato di nuovo tutto perché praticamente ho dovuto ripiantare la bandiera per farvi capire quanto indietro era tornato ma perché io muoio sempre quando non salvo ok mostra sulla mappa stiamo andando non stiamo andando qui io dove sono? la mia frecciolina indica che sono qui quindi devo andare alle mie spalle ok ah vabbè mi segnava tutt'altro come missione predominante tutto lì fa niente fa niente andiamo a prenderci qua il ciuccia fiore luminescente ignoriamo la gente che possa aver bisogno di noi di nuovo quando arrivi qua si blocca allora è proprio un freeze di caricamento eh poi sai quei bug è un attimo eh ah quei bug che c'è lì che è sbrillucica in modo sbrillucicoso che roba tienne giusto? si ma perché qua sono tutti vedo la gente morta in poche parole attenzione in caso di emergenza mantenete la calma e seguite le istruzioni di sicurezza fornite dai dipendenti di Nuka World cioè questi sono erano dei mister Andy di Nuka World praticamente fico ok ok adesso provvedo a leggere anche il registro di Tiana mazza è stata una stragi comica qua eh questo ammetto che è un settore che così a naso non saprei a chi rifilarlo poi boh vediamo valuteremo allora inventario varie registro di Tiana quanto sei Tiana? sei un po' strana e un po' anche spaparanzata in un in un attimo di presenti quei momenti in cui ecco dove sei? dove sei? dove sei? no ok ciao Tiana seleziona un elemento papà dice che domani andremo ancora nella Galactic Zone sinceramente non so cosa pensare di questa di queste missioni però è incredibile che quella vecchia tecnologia funzioni ancora piacerebbe studiarla ma papà e gli altri devono smantellarla per i pezzi di ricambio come se nel mondo non ci fossero già abbastanza circuiti ragioniti se non altro farò la metà dei turni non vedo l'ora di ritornare al lavoro sullo Star Control spero che il vecchio computer centrale sia ancora attivo è tutta colpa mia gliel'avevo detto gli avevo detto che non c'erano abbastanza nuclei per accenderlo se avessi aspettato un'ora li avremmo trovati nell'area e avremmo riattivato la Star Control ci avrei pensato io poteva funzionare ma non mi ha dato rette adesso Dio speriamo che stia bene riesco a sentire le urla attenderemo che la urca il fatto che ci fossero in giro di Deathclaw non mi piace per niente al massimo provo... no ricordarmi ahahahah se cercate un modo rifrescante di passare la giornata provate Nucatola Dark si si qui dentro c'è stato un macello altro che Nucatola Dark con la ok belli Nucatron chi è che mi sta sparando tantissimo anche guarda non vedevo l'ora oh fico li possiamo costruire anche noi allora ciao ma ciao eh ciao registrazioni Nucatola mmm a causa di un disguido con lo smaltimento di tutti animali di Safari e Verge sono un risultante di pesce freddo e mostrano il rito sfrutto di me non ho capito in cosa consistono queste registrazioni ma sono simpatiche sicuramente allora abbiamo due scelte via bassa e via alta io a casa mia eh eh esatto stavo dicendo si prende sempre la via alta ma dopo aver ciucciato due bottiglie di Nucatola Quantum che sono sempre un piacere per il gargarozzo e magari si sa mai vabbè che manca poco alla fine del video ma ripeto si sa mai scusate ma mi piaceva fare la figura dello sbronzino ok vai diciamo che abbiamo capito che il coltellino non è esattamente l'arma migliore da usare in questi frangenti c'è qualcosa che mi sta sbombardando lo sbombasino no no aspetta ok vai così ah Nucca Nucca quanto sei Nucca Ward ah bene ehm in realtà c'è qualcosa che mi riparava dalla dalla no 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 mi serviva qualcosa dell'energia vabbè 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 andiamo di di steampack un attimino dov'è 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 esatto allora ok eh sono cose divertenti specie quando non te ne frega niente del tuo compagno perché sei una persona orribile e devo decidere allora arma letale sì e granata frammentazione dai ok guarda che sta ruzzolando via e lo acchiappo giusto per gioco vabbè dai ti salvo le penne perché mi stai simpatico ma cosa ci sta sparando cosa divertiamoci un po' c'è sta plasma gun è qualcosa di ma sono i Nucca Cosi che sparano ste si è sto schifo di eh sono contento che sei morto sto master blaster qui c'è blaster mica male si va bene adesso non fare lo sborone cioè quello forte è il tuo socio lo sai ma scusami eh mutano anche i robot cioè non vogliate ma i robot non dovrebbero mutare non hanno parti organiche giusto no vabbè forse protetto o no non hanno parti organiche cosa muti ah saluta massorata grazie del pensiero però io ho detto passo da sopra perché di sotto sarà un puttanaio e invece peccato che non riparo una secchia eh qua è solo sbratto e schifo va bene no problem qui se non ricordo male un paio di di acchiappa cappi c'erano se che abbiamo qui ho fatto qualcosa che non dovevo non lo sapremo mai vero ok vabbè prima o poi credo credo e temo che lo scopriremo quindi ok salve penso perché nel registrato di cassa ci ha messo le munizioni no ok allora noi siamo saliti da lì perfetto ho sentito qualcosa? si sento un coso che blatera mi fa molta simpatia sale ancora? allora cazzarola forse non era il caso che io salissi questo posto è enorme aia eh vabbè ma allora dillo che sei stronzo ma porca miseria giocare si si vuol giocare eh pure io non dirmi niente che non vedo l'ora tante volte di arrivare qua e farmi sparare proiettili nel nel diciamo nel cotennino è sempre un bel momento quando arrivi da queste parti ti sparino addosso adesso vengo qui e ti do le botte brutte le botte nel secchiellino ecco beh 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 borbotti marmottoide allora dopo sarà bene anche trovare la maniera di ripulirsi un attimino dalle radiazioni perché sennò puccio di secchio qua andremo a mettere la bandiera presumo però qua non saprei chi mettere qua non c'è sangue qua c'è ancora da mettere ancora i coordinatori la di forse nel luogo delle sanguisughe era meglio mettere i sanguinari però mi sembravano più western quegli altri quindi vabbè vediamo vediamo un po' deciderò poi con calma io pensavo di avere degli scarti conquibus ahah vuoi il conquibus del dell'anderivieni del pitosfora credo che la risposta fosse pitosfora come sempre cioè questo è il salvavita ma i miei più in mani complimenti cosa sta facendo mi viene il vomito si ho notato che sei di un carino e di un disdicevole quasi qualunquistico ma te venissi anche a te eh un attimino un attacco di cacarella nella corsia veloce dell'autostrada della untostrada anche guarda qui con questo ci parlo io un attimo perché non si era proprio accorto di me sono stato un po' un bulbo pilifero io che esatto vediamo se di rimbarzo a che? attenzione a che? si si ok dai così che è una figata eh quanto mi piace quando te lo sbazzuco no ehi 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 e quanto ci piace pupa secchiagliela così, bravo 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 molto bravo, molto bravo, molto bello sono soddisfazioni chi è? ah no ma Gage è morto per quello che non mi copre vabbè, meglio un Gage morto che un Silberio Subriaco diceva il vecchio adagio ma lo diceva un vecchio e soprattutto lo diceva molto molto adagio cosa? cosa, pessima mossa? che se non mi prendo cura io di te mannaggia lo scoiattolo mi avete dato il benvenuto con le torrette laser e qua poi non abbiamo mai più smesso non lo so chi? ma scusi, signor Nicholas Gage senza offesa ma l'ha fatto centinaia di volte ma non ha più sparato lei a un certo punto lei non fa proprio il tifo per il nostro Silveris lei non mi piace come si atteggia ok questo mister Frolloco qui che sta parlando boh ok adesso volevo andare prima a vedere un attimino qua ma credo che sia a fondo chiuso da sto lato no si apre oh bene ci sarà da divertirsi proprio in maniera opportunistica vediamo un attimino qua dietro cosa ci attende qualcosa di sicuramente pessimo questo non me l'aspettavo una zona dove riparare l'armatura atomica la cosa mi ha spiazzato si in realtà avremmo dovuto venirci con l'armatura atomica sarebbe stato molto meno purulento e veramente pestifero però non l'abbiamo fatto quindi ormai potrò dare la colpa a voi tutte le volte che voglio ma bene ok bene 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 ma bene veramente bene veramente a Gigi vi piace Gigi mi va in brodo giugiole come la kite siete una bella coppia voi due però la kite è mia quindi non non rompere il belino grazie stai nel tuo allora lì è dove eravamo prima qui è dove non saremo mai dovuti arrivare e dove non giungeremo mai in qualsiasi altro modo allora se saltiamo giù di qua non avremo di grossa convenienza però forse anche forse anche questo è stato fatto ecco vabbè ci speravo starport nuka bene guanto da forno tizio non ci raggiungerà praticamente mai ci siamo infilati in un in un gioioso ginepraio di coccole e petunie ma fra l'altro non mi preoccupano tanto le coccole quanto le petunie eh si non mancherò guardi veramente ecco ecco ti qua ciccio pasticcio facciamo bene no dai pensavo pensavo peggio pensavo è stato bellissimo veramente quasi di un intenso memorabile ah salve e lei donde mi sbuca donde donde mi sbuca la adesso vado a sbucare da un'altra parte cortesemente perfetto secondo me pensavano di avere una possibilità esatto è molto probabile va bene luce ad ores anche qui ci siamo giunti riponiamo le armi in un'apposita vaschetta e niente noi ci salutiamo qui per ora e ci vediamo nel prossimo fantasticissimo e dilirante video ciao ciao